doghe 03 è la nuova avanguardia della bellezza panaria questa collezione propone l'effetto legno anche nel rivoluzionario spessore 3 mm e si esprime in tre colori moderni dalla grafica calda e raffinata supportata da formati unici nel suo genere qui rovere naturale experience 03 si distingue per la sua superficie a effetto resina anche nel rivoluzionario grass laminato 3 mm la tipologia di materia che rappresenta il programma dei formati e l'originale gamma dei decori offrono un ampio ventaglio di personalizzazioni per i propri spazi di arredo come in questo maso bottes restaurant ispirato a una pietra africana dalle tonalità inedite mods si presenta come un prodotto originale elegante e raffinato questo porcellanato è disponibile in naturale naturale rettificato e versioni lappato a istesis prima collezione che ceramica panaria declina nelle lastre ingresso porcellanato 03 è un prodotto di grande eleganza apprezzato in tutti i mercati ideale nel residenziale ma anche nelle più moderne applicazioni architettoniche è proposta in cinque raffinate tonalità bianco paglierino sabbia cacao lavica natura e tecnologia si fondano in questa collezione bio arc per dar vita a un nuovo concetto di ceramica che mette al centro il rapporto tra uomo e ambiente ispirata alla bargiolina quarzita e naturale piemontese di esclusiva bellezza è un prodotto per interni ed esterni ricercati inalterabile nel tempo e con la assegnati dalla natura in maniera ineguagliabile. Alla scoperta di un mondo migliore costruito sulle solide fondamenta dei nostri sogni, questo è Discover, pulito, perfetto, condiviso, una dimora per i nostri progetti sotto i nostri stessi occhi. Forte, luminosa e ispirata, la collezione Discover propone quattro nuove tonalità dal design moderno e naturale. Tutti i fondi Discover godono della protezione antibatterica Microban. Light Quartz 03 riproduce fedelmente una quarzite norvegese nell'innovativo progetto 03. Natura, architettura, essenzialità e leggerezza estetica delle forme e dei colori sono l'ispirazione di questa materia. Light Quartz 03 gode della protezione antibatterica Microban grazie alla cui tecnologia integrata a base di argento fino al 99% dei batteri sono eliminati dalla superficie della piastrella. Etos è una collezione in grado di riproporre superfici e colori che richiamano la maestosità delle abbazie francesi per un gress porcelanato di straordinaria originalità e purezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.